Ciccio e Bebè, ridere da nobili, è il titolo del docufilm dedicato alla figura dei fratelli De Rege, Giorgio detto Ciccio e Guido detto Bebè, duo comico che si esibì sui palcoscenici italiani tra gli anni 20 e i 40. Il docufilm è nato dall'idea del giornalista Franco Canavesio e dal suo incontro con Giovanna De Rege. Noi facciamo parte della famiglia dei cugini, cioè Ciccio e Bebè erano cugini di nostro padre in altra epoca vissuti, perché sono vissuti tra le due guerre, sono stati allontanati dalla famiglia per la scelta ardita fatta di dedicarsi all'avanspettacolo, essendo la nostra una famiglia dove le carriere erano sostanzialmente diplomatici piuttosto che militari. Cosa succedeva? Stava succedendo qualcosa che mi sembrava grave, cioè si rischiava di perdere le tracce di questi due personaggi che hanno lavorato in epoca dove la televisione non immortalava loro e quindi abbiamo pensato che la generazione nostra dovesse fare un passo avanti e lavorare per raccogliere le tracce ancora presenti del loro lavoro, del loro stile comico che era stato indubbiamente molto innovativo e coraggioso e così abbiamo fatto con la collaborazione naturalmente di uno staff assolutamente oltre che qualificato anche molto motivato, perché era sicuramente un lavoro ad alto rischio perché bisognava inventarlo ogni giorno. Il docufilm, per la realizzazione del quale sono corsi oltre cinque anni spesi soprattutto nella ricerca e nella raccolta delle memorie sparse tra le famiglie, gli spettatori e gli addetti ai lavori, dura poco più di un'ora ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria. L'anteprima sarà al castello di Grocca Grimalda domenica 6 maggio alle ore 15.